Il lavoro dell'Astituto di Erna sarà assicurato anche mediante la trasmissione indiretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Le dispongo pertanto l'attivazione. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento di interrogazione a risposta immediata, ricordo che il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per un minuto e che il rappresentatore del Governo sono risolvati tre minuti per la risposta e che il presentatore ha diritto di replica per due minuti. Passiamo ora all'interrogazione 2164 Merola, adegamento del limite arreddituale ai fini del riconoscimento dei quali familiari fiscalmente a carico dei figli con disabilità. Invito il collega Merola ad illustrarla. Prego. Grazie signor Presidente. Mi concentro sull'impegno che chiediamo al Governo. Su questo tema delle distrazioni per le famiglie con disabili sappiamo che l'Agenzia delle Entrate ha confermato che gli importi relativi delle assegne per il nucleo familiare e le distrazioni IRPEF per i figli a carico continuano ad essere presenti indifferentemente dalla posizione lavorativa del richiedente per i nuclei familiari con figli disabili senza limiti di età e senza limitazioni legate al reddito del nucleo familiare. Il punto che le voglio evidenziare è che l'attuale soglia di reddito a 2840 euro per i familiari a carico che non è aggiornata dal 1997 non tiene in adeguata considerazione lo status, la condizione effettiva delle persone disabili. Infatti sappiamo che spesso un disabile in età più avanzata si ritrova ad avere una pensione di irreversibilità a causa del decesso di uno dei genitori. Stiamo parlando di una media di circa 3.000 euro annui che fa decadere il diritto per i genitori supestite alle distrazioni IRPEF per i figli a carico. Da qui la nostra domanda se il governo intende adottare iniziative normative per modificare l'attuale disciplina stabilendo che l'attuale soglia di reddito di 4.000 euro per i figli a carico sotto i 24 anni sia garantita, cioè sia estesa, per ogni figlio con disabilità a carico senza limiti di età, anche valutando l'onere a carico del bilancio dello Stato. Grazie, grazie. Invito la sottosegretaria Albano a rispondere. Grazie Presidente. Dunque vado alla risposta, visto che è stata illustrata l'interrogazione. Ai sensi dell'articolo 12,2 del TUIR, le detrazioni per i familiari a carico di età pari a superiore a 21 anni spettano a condizione che le persone alle quali dette detrazioni si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro all'ordo degli oneri deducibili. Tale limite complessivo di reddito è elevato a 4.000 euro per i figli a carico di età non superiore a 24 anni. Il decreto legislativo 29 dicembre 2021 numero 230 rubricato istituzione dell'assegno unico universale per i figli a carico in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 46 1 aprile 21 introduce, come sappiamo a decorrere dal 1 marzo 2022, l'assegno unico universale per i figli a carico che costituisce un beneficio economico attribuito su base mensile per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo tenuto conto della condizione economica del nucleo familiare in base all'indicatore della situazione economica equivalente per i figli con disabilità l'assegno unico universale spetta senza alcun limite di età ciò posto in base al combinato risposto dei menzionati articolo 12,1 lettera C del TUR e 2,1 lettera C del decreto legislativo 230 21 per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni di cui è citato articolo 12 sono cumulabili con l'assegno unico universale eventualmente percepito come da circolare 4 e del 2022 gli interroganti hanno fatto una richiesta specifica cioè di prevedere che l'attuale soglia di reddito di 4.000 euro per i figli a carico sotto i 24 anni sia garantito per ogni figlio con disabilità a carico senza limite di età a questo mi corre l'obbligo di rispondere che allo Stato non è possibile fornire una stima esatta di quelli che sono gli oneri della proposta in argomento per quanto di particolare interesse perché mancano le necessarie informazioni di dettaglio sulla platea di riferimento pertanto ci si riserva di fare questo tipo di esame per poi capire la possibilità di affrontare il tema con maggiore chiarezza grazie grazie invito il collega Menolo a replicare ringrazio la rappresentante del governo perché non ha escluso la possibilità ma ha rinviato una verifica sulla platea quindi penso che sia importante approfondire l'argomento perché come sapete nella vita familiare si creano sulla base di questi dettagli interpretativi situazioni anche molto difficili quindi credo che su questo tema torneremo chiedo che sia possibile fare questa verifica nei tempi più possibili e brevi possibili grazie grazie passiamo ora all'interrogazione 2165 FENU impatto del superbonus edilizio sul contrasto all'evasione fiscale e contributiva nel settore delle costruzioni invito il collega FENU ad illustrarla prego sì grazie presidente allora io qua faccio riferimento all'ultima relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva da cui risulta che nel 2020 c'è stata una riduzione dell'incidenza dell'evasione fiscale e contributiva sul PIL di 3,3 punti percentuali dal 2018 al 2020 legato in particolare al settore delle costruzioni nel 21 dicembre 2023 è stata aggiornata la relazione inserendo anche l'annualità 2021 dove si è registrata una riduzione quindi si è continuata a registrare una riduzione di 2,6 punti percentuali nel 2021 sempre nel settore delle costruzioni è stato anche il comparto economico in cui si è registrata una riduzione diffusa dell'incidenza del lavoro irregolare sul totale dell'occupazione quindi meno 2,4 punti percentuali rispetto al 2019 quindi questo miglioramento dei dati del sommerso trova conferma anche nell'incremento altrettanto significativo del gettito IVA legato sempre e delle imposte dirette al settore delle costruzioni il periodo di riferimento dei dati dai quali si attende un ulteriore miglioramento per l'annualità successiva che corrisponde al periodo di introduzione e vigenza del super bonus quindi si chiede se non si ritenga sussistente e in che termini possibilmente una diretta correlazione tra l'andamento positivo dei dati relativi all'andamento dell'evasione fiscale in particolare per quanto riguarda il gettito delle imposte e la vigenza nel medesimo periodo del super bonus 110% e quali misure alternative si intende adottare per garantire negli anni a venire un analogo impatto positivo. Grazie Grazie, invito la sottoscritta Albano a rispondere Grazie Presidente Dunque con questa interrogazione gli onorevoli chiedono di riferire sull'esistenza di una correlazione tra la riduzione dell'evasione fiscale con la contrazione dell'economia sommersa e l'introduzione dell'agevolazione super bonus In proposito il Dipartimento delle Finanze ritiene opportuno precisare che sotto il prefilo della riduzione fiscale i dati pubblicati nella relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale contributiva non consentono un'analisi settoriale dell'andamento del tax gap I risultati positivi in termini di riduzione dell'economia sommersa e tax gap registrati nel 2021 come riportato anche nell'aggiornamento alla relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale contributiva pubblicato a dicembre 23 sono da attribuire a diversi fattori di tipo strutturale come ad esempio l'incremento dell'utilizzo dei pagamenti elettronici e il periodo di ripresa dell'attività economica a seguito della pandemia Covid-19 e di policy tra i quali in particolare il consolidamento degli effetti positivi dovuti alla fatturazione elettronica obbligatoria Pertanto alla luce delle informazioni a disposizione è difficile attribuire ad un singolo fattore la riduzione della dinamica osservata Opportune analisi econometriche di valutazione ex post dovrebbero isolare l'effetto del super bonus da tutti gli altri effetti confondenti, congiunturali ed altri policy ma pare difficile giungere ad una conclusione sufficientemente attendibile sulla relazione diretta tra la misura agevolativa in oggetto e il miglioramento della compliance In merito invece alle misure alternative che il Governo intende adottare per garantire negli anni a venire un analogo impatto positivo si evidenzia che il Governo è impegnato a consolidare risultati positivi in termini di riduzione dell'evasione fiscale nel medio termine combinando il rafforzamento delle misure esistenti anche mediante strategie di controllo più efficaci e sanzioni tempestive con l'instaurazione di un nuovo approccio collaborativo tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti così come previsto dalla legge delega 111-23 di riforma fiscale nei decreti attuativi per aumentare la compliance volontaria e ridurre i costi di compliance stessa Grazie Grazie, invito il collega Fenu a replicare Io ringrazio la sottosegretaria non sono soddisfatto della risposta perché credo che sia diciamo carente e un po' anche sviante perché non si può dire che non si può calcolare quello che è la riduzione dell'evasione fiscale legata a un settore in particolare visto che in realtà è stato fatto perché nella relazione sull'economia non osservata si dice che c'è stata una riduzione di 3,3 punti percentuali proprio sul settore delle costruzioni quindi come si fa a rispondere una cosa diversa da quella che c'è scritta nella relazione sull'economia non osservata e anche invocare giustamente sull'evasione per carità la promozione dei pagamenti elettronici però se questa immersione dell'evasione fiscale riguarda il settore delle costruzioni se l'emmersione lavorativa e contributiva riguarda il settore delle costruzioni in questi settori già ci sono i pagamenti elettronici quindi io chiedo al Ministero un atto di maggiore sincerità su questo argomento e invito davvero a smetterla di nascondere tutti quegli effetti positivi che sappiamo esserci perché sappiamo che in realtà l'Agenzia delle Entrate ha indicato con precisione qual è l'emmersione legata al super bonus quindi chiedo veramente di smetterla di occultare tutti gli effetti positivi di questa misura cerchiamo di considerarla obiettivamente da tutti i punti di vista in modo da trarre l'insegnamento anche per il futuro grazie grazie passiamo ora all'interrogazione 2166 Borrelli intendimenti del governo sulla riforma del sistema fiscale con particolare riferimento alla gestione dei debiti fiscali invito il collega Grimaldi in qualità di cofirmataria di illustrarla prego grazie bene ci ricordiamo bene che la Presidente Meloni ha presentato proprio qui alla Camera la riforma fiscale il 13 marzo l'ha fatto in toni un po' trionfalistici in 7 mesi 8 dei 10 decreti attuativi previsti per disegnare una nuova idea appunto d'Italia più vicina alle esigenze dei contribuenti peccato che l'adesione alla retomazione offerta negli ultimi tempi dal governo sia aprendo una voragine nei conti dell'erario come mai? perché i contribuenti dopo aver aderito smettono di pagare diventando una causa strutturale di non punibilità dell'evasione fiscale il risultato lo conosciamo bene l'abbiamo previsto, segnalato e ripetuto ora il mancato pagamento dell'imposto è ancora più conveniente e chi opta per la rateizzazione del debito sarà meno esposto al sequestro dei beni finalizzata a preservare una garanzia a favore del fisco non poteva che accadere questo con uno schema di decreto legislativo che riscrive il sistema sanzionatario in base a principi limpidi cioè una generalizzata riduzione delle sanzioni amministrative in casa di omessa o infedele dichiarazione forme di depanonizzazione per l'ommesso versamento di ritenute depanonizzazione dell'evasione di necessità cioè dipendente da cause non imputabili al contribuente che evade e l'agenzia di entrate viene caricata di un improprio ruolo di ente concessionario di credito sono le parole poi della Corte dei Conti nella relazione sul rendiconto del 2023 in sostanza l'equivalente di una finanziaria che concede prestiti a una massa di debitori ha elevato il rischio di inesigibilità in questo quadro gli ultimi provvedimenti valati dal governo sono oggettivamente uno stimolo a riterare un comportamento antisociale ossia la violazione delle norme fiscali ho finito vogliamo avvicinarci ai paesi come la Svizzera dove il reato tributario non esiste proprio qual è la strategia di gestione dei debiti fiscali come si pianifica in modo strategico l'uso dei poteri coercitivi per deliberare il rischio individuale di non pagamento e la probabilità effettiva di recupero sembra che il governo non ne abbia idea ma spero che la sottosegretaria mi dica qualcosa di più grazie e invito la sottosegretaria Albano a rispondere grazie presidente ci proverò l'articolo 20 della legge 9 agosto del 23 numero 111 recante la legge delega al governo per la riforma fiscale come noto ha delegato il governo ad operare una profonda revisione del sistema sanzionatorio tributario amministrativo e penale specificando altresì tra gli altri i seguenti principi e criteri direttivi che l'esecutivo è tenuto ad osservare nell'esercizio della delega per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrativi e penali quello di tra gli altri razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione ai fini del completo adeguamento al principio del nebbissi in idem più in particolare in merito alla disciplina delle sanzioni penali per le violazioni tributarie è previsto tra i principi della riforma quello di attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo non dipendente questo da fatti imputabili al soggetto stesso infine in relazione alla disciplina delle sanzioni amministrative si prevede tra l'altro di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie attenuando nel carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri stati europei in attuazione della cennata legge delega il Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 febbraio 24 ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo con cui sono stati modificati i decreti legislativi 471, 472, 473 del 97 nonché per quanto concerne i reati tributari il decreto legislativo 10 marzo 2000 numero 74 l'obiettivo principale che si mira a ottenere attraverso la complessa opera di riforma dei suddetti decreti legislativi è quello di razionalizzare il sistema sanzionatorio rendendolo più equo e proporzionato e di adeguarlo come già detto a quello degli altri paesi europei anche al fine di attrarre i capitali esteri in tale ottica ad esempio sono state complessivamente riproporzionate le sanzioni amministrative è stata comunque rispettata una gradualità delle sanzioni sulla base della gravità o delle circostanze connesse alla violazione applicando aumenti o riduzioni delle sanzioni base per le sanzioni in misura fissa è stata invece mantenuta la possibilità di applicare le sanzioni da un minimo a un massimo per quanto concerne invece la revisione delle disposizioni del decreto 74 del 2000 l'obiettivo principale che si è inteso per seguire è stato quello di pervenire ad una maggiore integrazione tra le sanzioni amministrative e penali evitando la duplicazione non compatibili evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di bis in idem inoltre in coerenza con i principi criteri direttivi della legge delega sono stati adeguati i profili processuali e sostanziali connessi all'ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti armonizzandoli con i termini di effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale infine hanno trovato piena attuazione due specifici criteri direttivi contenuti nella legge delega il primo è volto a dare rilievo all'eventuale sopraggiunta impossibilità ne abbiamo diverse volte parlato per il contribuente di far fronte al pagamento del tributo per motivi a lui non imputabili il secondo è preordinato a dare specifico rilievo in sede penale a quelle che sono le definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali alla luce di quanto esposto discende quindi che le scelte governative sottese all'emanazione del decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio relativamente al quale l'onorevole interrogante ravvisa le sovecitate criticità si pongono in diretta correlazione con i criteri direttivi indicati specificamente nella legge delega parlamentare grazie grazie invito il collega Grimaldi a replicare prego ho capito che c'è una nuova definizione quindi il fisco amico per vecchi e nuovi amici e il nuovo melonismo con cui definite una riforma che secondo noi non è né equa né progressiva anzi corporativa sulla base degli interessi del vostro blocco sociale di riferimento e magari attrattiva come dice la sottosegretaria per chi vuole venire a riciclare i suoi soldi nel bel paese ecco questa sarebbe la vostra grande rivoluzione liberale di sicuro è un crescente privatizzazione dello Stato perché ci sono meno tasse per alcuni e meno servizi per tutti nebbia tra l'altro sui finanziamenti della riforma ma certezza su sconti raterizzazione decennale rottamazioni e di sicuro sanatorio che sono 18 in 18 mesi di governo continuate a fare misure che incentivano chi elude il fisco secondo noi danneggiando tra l'altro i contribuenti onesti d'altra parte il motto è se capisco bene quindi non disturbare chi vuole fare una linea che continua a essere paternalistica e liberista che considera il fisco una sorta di camicia di forza che soffoca la società e chi paga però in tutto questo la vostra riforma innanzitutto i più poveri perché ahimè il taglio del cuneo è stato finanziato anche con l'abolizione del reddito di cittadinanza e si vedono gli effetti soprattutto sugli enti locali il secondo luogo tutti ma di nuovo soprattutto i più poveri tramite la riduzione della spesa pubblica e quindi dei servizi aumentare il debito pubblico non si può visto che avete appena votato un bel nuovo patto di stabilità a cappio e a far crescere il PIL non si pensa secondo questo schema non sarà neanche lo Stato centrale a tagliare direttamente la spesa ci penserà direttamente l'autonomia differenziata a delegare tutto quanto alle regioni regioni che più di prima procederanno a privatizzare i servizi sanitari le scuole e i trasporti insomma tanti auguri a chi non si potrà permettere scuole trasporti e sanità privata lo Stato amico quello sì grazie passiamo all'interrogazione 2167 Centemero iniziative volte a sostenere le politiche di accesso al credito per le famiglie e imprese invito il collega Centemero ad illustrarla prego grazie signor presidente allora riassumendo l'interrogazione che parte da un report di Banca d'Italia economia regionale la domanda dell'offerta di credito a livello territoriale numero 43 dicembre 2023 sostanzialmente c'è stata una riduzione della domanda di credito nel a partire dal primo semestre del 2023 questa diminuzione pare originare dalla diminuzione delle esigenze per il sostegno di investimenti della copertura del capitale circolante inoltre le politiche di offerta del credito delle banche e le imprese si sono irrigidite cosa che avevamo anche un po' notato già nella commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario della scorsa legislatura anche la domanda di mutui per l'acquisto di abitazione si è ulteriormente indebolita e il problema poi oggi che è la festa del papà è significativo è stato anche in maniera preoccupante riflesso sui prestiti contratti in passato e a tasso variabile quindi con gravi significativi sul bilancio familiare quindi si chiede al MEF della persona della sottosegretaria al Bano se quali iniziative per quanto di competenza si intendano adottare per evitare una nuova ondata di insolvenza quindi un nuovo periodo anche di NPL all'interno dei bilanci bancari al fine di sostenere l'accesso al capitale per le famiglie e per le imprese anche tramite canali alternativi alle banche grazie grazie invito la sottosegretaria Albano a rispondere prego grazie presidente dunque in riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante si evidenzia preliminarmente che oltre al documento della Banca d'Italia richiamato i dati più recenti sull'accesso al credito sono rinvenibili nell'ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d'Italia pubblicato a novembre e nell'indagine sul credito bancario nell'area dell'euro pubblicato proprio da Banca d'Italia il 24 gennaio 24 da tali documenti effettivamente emerge che la riduzione delle erogazioni è stata determinata in modo significativo anche dalla riduzione della domanda oltre che da un irrigidimento nei criteri di offerta di credito alle imprese in particolare al contrario l'offerta alle famiglie per gli acquisti di abitazioni e i prestiti valutati meno rischiosi sono stati interessati invece da una riduzione dei margini applicati dalle banche in particolare la domanda di credito da parte delle imprese è diminuita con una contrazione del 6,2% nel periodo settembre 22 e settembre 23 in conseguenza del calo del fabbisogno per la spesa in investimenti fissi e del maggior ricorso all'autofinanziamento oltre che dell'aumento del livello dei tassi di interesse sulla riduzione del credito è influito anche l'incremento dei rimborsi dei prestiti con garanzia pubblica ottenuti durante il periodo pandemico la domanda di credito a parte delle famiglie sia per l'acquisto di abitazioni per consumo è diminuita in conseguenza e soprattutto dell'aumento dei tassi di interesse ciò opposto per quanto riguarda le imprese di recente sono state introdotte misure di supporto alla liquidità e agli investimenti delle piccole e medie imprese infatti all'articolo 15 bis del decreto legge 145 del 18 ottobre 23 tale articolo ha ridefinito l'operatività del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese relativamente al periodo primo gennaio 31 dicembre 24 ed in particolare è stato incrementato da 2,5 a 5 milioni di euro l'importo massimo garantito dal fondo per la singola imprese sono stati rimodulati i livelli massimi di copertura della garanzia in funzione della finalità dell'operazione una più elevata misura di garanzia fino all'80% è prevista in caso di operazioni finanziarie concesse alla piccola media impresa per il finanziamento dei programmi di investimento ovvero per operazioni in fase di start up la garanzia nella misura massima dell'80% viene altresì riconosciuta per l'operazione finanziaria di importo ridotto la Cusoglia viene innanzata il microcredito dai 25.000 euro dell'attuale reggime ordinario a 40.000 euro ovvero 80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia con riassicurazione nonché per operazioni finanziarie di microcredito fino a 50.000 euro inoltre la citata disposizione riconosce l'accesso alla garanzia del fondo enti del terzo settore per operazioni non superiore a 60.000 euro e ad imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 a fronte di singole operazioni finanziarie e qui c'è il dettaglio della tipologia che evito di leggere e si può insomma leggere successivamente relativamente alle misure per supportare l'accesso al credito delle famiglie si segnala che da ultimo la legge di bilancio 24 è steso fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di chiedere l'innalzamento del fondo prima casa all'80% per i soggetti appartenenti alle categorie prioritarie che abbiano in sé fino a 40.000 euro l'anno e chiedano un mutuo di importo superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile tale possibilità quella di elevare la garanzia fino all'80% opera anche quando il tasso effettivo globale sia superiore al tasso effettivo globale medio nel rispetto di alcune condizioni che sono qui definite e illustrate in aggiunta le categorie prioritarie già individuate giovani di età inferiore a 36 giovani coppie nuclei monogetoriali con figli minori conduttori di alloggi IACP la legge di bilancio 24 ha equiparato anche le famiglie numerose prevedendo che a determinate condizioni i nuclei familiari rispettivamente con 3, 4 e 5 o più figli di età inferiore a 21 anni possano beneficiare dell'elevazione della garanzia fino all'80% all'85 e al 90% in tale contesto si segnala anche la recente pubblicazione del decreto ministeriale che modifica la disciplina del microcredito il DM 211-23 ampliando il perimetro dei soggetti beneficiari in cui oggi rientrano anche le SRL e non solo in fase di start-up per quanto riguarda la regolamentazione europea in corso di elaborazione si segnala che nel cosiddetto pacchetto di Basilea 3 Plus approvato lo scorso anno in attesa di pubblicazione della gazzetta ufficiale dell'Unione europea su specifica sollecitazione della delegazione italiana sono state inserite alcune misure anticicliche prettamente finalizzate a favorire l'accesso al credito a queste la revisione del mandato all'Eba per la definizione della qualifica di default volta a favorire l'attività di ristrutturazione del debito da parte delle banche mandato che l'Eba ha indicato tra le proprie priorità per il 24 nel riquadro delle iniziative europee di prossima implementazione è in atto il ricevimento della secondaria market directive della direttiva 2021-2167 con la quale verrà favorito lo sviluppo del mercato secondario dei crediti e si procederà anche al rafforzamento dei presidi a tutela dei debitori ceduti mentre nell'ambito della capital markets union la delegazione italiana si è fatta parte attiva per promuoverne il rapido completamento pertanto sono già peraltro sono già state adottate iniziative nazionali volte ad anticipare e ampliare l'ambito di operatività di tale riforme come la legge 5 marzo 2024-21 per la competitività dei capitali e delega al governo per la riforma organica delle disposizioni in materia del mercato dei capitali queste ultime iniziative sono tese alla creazione di mercati efficienti in grado di rappresentare una valida alternativa al credito bancario per le imprese ampliando la modalità di capitalizzazione delle stesse grazie il collega centemero a replicare grazie signor presidente ringrazio il sottosegretario per la risposta esaustiva è importante tenere l'attenzione focalizzata su questi temi e si è già fatto un ulteriore passo in avanti con alcune delle misure contenute dell'IDL capitali quindi penso per esempio a dematerializzazione dei quote di SRL molto ancora può essere può essere può essere fatto ma mi fa piacere che si percepiscono i mercati alternativi al canale bancario come utili anche alle famiglie e alle imprese grazie grazie passiamo dall'interrogazione 2168 congedo iniziative volte a tutelare la riservatezza dei dati dei contribuenti contenuto il sistema informatico fiscale dell'agenzia dell'entrata serpico invito il collega congedo ad illustrarla grazie presidente saluto il sottosegretario Albano la vicenda quella nota alle cronache relativa all'indagine della magistratura sul presunto dossieraggio avviata questa indagine a seguito della denuncia del ministro Crosetto che vede coinvolto il tenente della guardia di finanza Pasquale Striano in servizio della direzione nazionale antimafia indagato in concorso con il magistrato Laudati di accesso abusivo a sistemi informatici e banchedati accesso abusivo che sembrerebbe coinvolgere anche il sistema informatico denominato serpico gestito dal ministero dell'economia e delle finanze e in possesso dell'agenzia dell'entrata un sistema che consente la visualizzazione con riferimento ad ogni singolo contribuente di dati sensibili di carattere reddituale patrimoniale e finanziario presenti nell'anagrafe tributaria al di là degli aspetti legati all'indagine della magistratura indirizzata ad accertare eventuali ipotesi di reato e conseguenti responsabilità anche di carattere penale al nostro modo di vedere appare inevitabile accertare questo sottoponiamo alla valutazione del ministero dell'economia e delle finanze uno la funzione ricoperta dal finanziere striano che gli ha consentito l'accesso ad una pluralità di banche dati da cui sembrerebbe uso incondizionale anche il sistema serpico le finalità dell'attività illecita svolta da striano a danno di un numero enorme di cittadini alcuni con funzioni pubbliche e in particolare quali iniziative di competenza del ministero dell'economia e delle finanze il ministero intende assumere al fine di tutelare le informazioni riservate dei contribuenti acquisite al sistema serpico ed eventualmente anche ad altre banche dati grazie invito la sottosissima a rispondere prego grazie presidente dunque i dati gestiti dai sistemi informativi dell'agenzia delle entrate devono essere efficacemente protetti per garantire la riservatezza l'integrità e la disponibilità in tale contesto assume particolare rilevanza la gestione del controllo degli accessi al sistema centrale l'anagrafe tributaria in generale a tutti i sistemi applicazioni e banche dati e l'agenzia delle entrate l'esigenza di massima tutela delle informazioni contenute nell'anagrafe tributaria deriva da un lato dal rilevante interesse pubblico di detta banca dati riconducibile alla fine di natura fiscale per cui è stata costituita e dall'altro dal diritto costituzionalmente riconosciuto alla riservatezza dei dati personali in essa contenuta sotto il primo profilo l'interesse pubblico con la tutela dei dati iscritti nell'anagrafe tributaria espressamente sancito dall'articolo 15 dpr 29 settembre 73 numero 605 recante disposizioni all'anagrafe tributaria relativa all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti a norma del quale i dati e le notizie raccorti all'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto ufficio sotto il profilo della protezione dei dati personali dei contribuenti l'utilizzo della banca dati è soggetto alla disciplina prevista dal regolamento UE 679 del Consiglio del 27 aprile 2016 il GDPR e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 che dettano una serie di misure per la sicurezza a cui nel tempo si sono aggiunte quelle specificamente indicate dal garante per la protezione dei dati personali l'agenzia ha fornito in proposito specifiche indicazioni comportamentali e ha precisato le procedure operative cui devono ottenersi gli utenti interni ed esterni per un corretto utilizzo delle risorse informatiche ciascun utente è direttamente responsabile della scelta dell'utilizzo della gestione della custodia delle credenziali di accesso assegnate per lo svolgimento delle proprie mansioni in particolare le regole introdotte prevedono che l'utente non debba condividere e rivelare le sue credenziali di accesso ad altri utenti al fine di evitare l'impropria visualizzazione di informazioni riservate e l'eventuale distruzione e modifica dei dati inoltre l'agenzia ha adottato un sistema di regole di gestione delle abilitazioni come in tutte le banche dati con lo scopo fondamentale di garantire che le abilitazioni siano strettamente limitate in funzione delle specifiche attività e mansioni svolte sia al momento dell'accesso sia durante lo svolgimento dell'attività lavorativa un'ulteriore misura di sicurezza è il sistema di tracciamento degli accessi che costituisce un fondamentale strumento di situazione nei confronti degli operatori attesa la possibilità di costruire l'attività in accesso collegandole a una identificazione dell'utente e della postazione da cui accede il sistema di controllo degli accessi prevede il tracciamento dei login e a un livello di dettaglio che dipende dalla specifica applicazione delle operazioni svolte sui sistemi a caso di serpico sono tracciati gli accessi e le interrogazioni svolte su un dato oggetto e soggetto per quanto riguarda l'identificazione gli operatori dell'agenzia sono associati ad un identificativo univo col codice fiscale il censimento degli operatori dell'agenzia avviene nel sistema informatico di gestione del personale al momento dell'assunzione e da tale momento gli stessi sono identificabili anche per l'accesso alle procedure analogamente il decensimento o il blocco dell'operatore avvengono in tutti i casi di uscita dall'organico dell'agenzia l'autenticazione dell'operatore viene sempre utilizzando almeno un fattore di autenticazione la password sottoposta a una specifica password policy con opportune caratteristiche di sicurezza quali la lunghezza la scadenza il blocco eccetera sotto il profilo dei controlli sugli accessi abusivi l'agenzia si è dotata per il proprio personale di sistemi di segnalazione delle anomalie negli accessi ai dati dell'anagrafe tributaria tali sistemi sono stati sviluppati in attuazione delle misure tecniche organizzative richieste dal garante rappresenta uno strumento di asilio per contrastare fenomeni corruttivi e di accesso abusivo in particolare ha sviluppato un sistema di analisi informatizzata dei dati relativi agli accessi all'AT finalizzato evidenziare comportamenti potenzialmente anomali inoltre gli applicativi che interagiscono con l'anagrafe tributaria tra cui Serpico consentono l'accesso unicamente dopo che l'operatore ha completato positivamente il processo di identificazione autenticazione autorizzazione in altri termini tutte le applicazioni prima di consentire qualsiasi trattamento dei dati interagiscono con un sistema di controllo affinché tutti gli operatori che vogliono accedere siano preventivamente identificati e autenticati tanto rappresentato l'agenzia costantemente adegua alle misure di sicurezza le più evolute tecnologie e le rafforza laddove emergano ulteriori esigenze in ultimo il comando generale della guardia di finanza fa presente che per quanto riguarda gli aspetti di stretta competenza sulla specifica vicenda segnalata dagli interroganti sono tuttora in corso di svolgimento indagini di polizia giudiziaria sotto la direzione della procura della repubblica di Perugia che è l'unica deputata a valutare possibili comunicazioni in merito grazie grazie invito il collega congelo a replicare prego sì grazie presidente ringrazio il sottosegretario Albano per la risposta puntuale alla nostra interrogazione e anche per aver esplicitato tutte le procedure i protocolli messi in campo dal ministero a tutela della privacy e alla protezione dei dati certo rimane un dato abbastanza inquietante peraltro le audizioni pubbliche del procuratore nazionale antimafia Melillo del procuratore di Perugia che ovviamente sta indagando sulla questione non lasciano spazio veramente ad equivoci e a fraintendimenti perché gli stessi hanno parlato di fatti gravissimi non compatibili con devianze individuali mercato clandestino di informazioni staccheggio di banchi e dati numeri mostruosi di accessi abusivi per cui se da un lato si pone come giustamente ha ribadito il sottosegretario Albano la questione diciamo degli adeguati controlli e della necessità eventualmente anche di incentivare gli investimenti in materia di cibi sicurezza dall'altro occorre dare veramente risposte a questa vicenda inquietante a cominciare dal fatto diciamo di comprendere se questo ufficiale guardia finanzia abbia agito da solo o sul mandato quali finalità lo hanno portato a commettere questi fatti chi sono i veri destinatari delle informazioni acquisite abusivamente se esiste una regia e quale sarebbe eventualmente l'obiettivo ringrazio comunque il sottosegretario per la risposta grazie anche a lei Presidente grazie non essendoci altro interrogazione dichiaro concluso svolgimento dell'interrogazione risposta immediata grazie a tutti